Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Enzo, che mi chiede di parlare del film del 2019, di Josh e Benny Safdie, nei registri di quel bellissimo film che era Good Time, e Diamanti Grezzi con uno spettacolare Adam Sandler, un film noir molto particolare, che pure appunto del 2019 è ambientato nel 2012, per cercare di tornare appunto a una famosa partita di basket. La storia parte in realtà in Etiopia nel 2010, dove viene trovato questo pale nero incredibile. Poi due anni dopo questo pale è in mano appunto al nostro protagonista, Howard Retner, che è un gioielliere praticamente che ha un debito di 100.000 dollari, ma che fa valutare questo pale che dovrebbe costare praticamente un milione di dollari. Che cosa succede? Un famosissimo giocatore di basket lo va a trovare. Poi il nostro in realtà è uno che praticamente sta per divorziare da moglie e figli, che ha un amante e praticamente non va mai al lavoro e che vive in un suo appartamento, uno scommettitore completamente incallito appunto che deve dare questi 100.000. E cosa succede? Degli amici portano il giocatore dei Boston, Kevin Garnett, che fa se stesso tra l'altro appunto nel negozio del nostro gioielliere per comprare qualcosa, ma si innamora direttamente di questo pale. Quindi il nostro Howard decide di prestaglio, dicendo che se avrà quello, li porterà fortuna e vincerà la partita, perché così è ancora più fissato, diciamo, il nostro giocatore di basket. La partita va a buon fine e in cambio il nostro va richiesto appunto all'anello dell'NBA vinto da quell'altro, dal giocatore di basket. Il nostro se lo vende subito per fare altre scommesse. E di lì parte un grosso casino, perché dovrà portare i soldi agli scommettitori. L'opale forse non è quello che deve essere. E di lì una discesa negli inferi sempre più oscuri di una città che ti mangia, piena zeppa di dialoghi incredibilmente scritti da Donald Bronsten insieme ai fratelli Sadler, che riescono a trasportarci praticamente in un mondo assoluto, dove un Adam Sandler non è mai stato forse così convincente, se non in ubriaco d'amore. È veramente meraviglioso nel ruolo di questo gioielliere, che cerca in tutti i modi di uscire dalla situazione che si crea, ma che in realtà è sempre circolare, nel senso che non riuscirà mai a potercene uscire, perché ogni volta che fa una cosa buona ne fa tre che sono stronzate. E il film riesce veramente ad avere una tensione altissima. Parte quasi come un noir, diventa un dramma, poi diventa un film assolutamente d'azione in qualche punto per tornare a essere un nero puro con uno dei finali più ganzi che si sono visti al cinema. E questo è un filmone veramente peccato che se lo sia preso Netflix e non sia andato nelle sale, perché questo vederlo sulle sale deve essere stato uno spettacolo micidiale. Prima di tutto per una grandissima messa in scena. I registi un'altra volta ci aiutano con la macchina a mano, con un montaggio straordinario di Bronsten e Sede, appunto, i fratelli, che fanno un lavoro indescrivibile, appunto, anche sui colori di una città che si accende e si spende con quei neon fantastici. È una fotografia di Dario Scondi, di quelle veramente che non si dimenticano, così come le musiche. C'è un Etrix Pint Never che fa veramente un grandissimo lavoro per un film che per me è una bomba, veramente una bomba. Un film che riesce a funzionare quasi sempre, un film che riesce a tenere attaccati dall'inizio alla fine. E ci attacchiamo proprio a questo rattene, a questo personaggio, tifiamo per lui, cerchiamo e speriamo che la sua vita possa cambiare nonostante sia un pezzo di merda. E questo vuol dire che il film funziona alla grande. Grazie poi anche a un utilizzo, ripeto, come ho detto, di un'idea di ritmo che passa dal rilassato al concitato e riesce a farci entrare sempre di più in una narrazione pericolosamente ambigua, nel senso positivo, dove appunto i cattivi e i buoni nell'ambiente si mescolano senza colpo ferire appunto. E dove nella storia del basket, diciamo in un certo senso americano, si mescola la storia di questo, diciamo così, gioielliere che fa di tutto per cercare di uscire in realtà dai suoi guai, ma ci rientra sempre perché è un giocatore incallito. In un mondo dove l'unica cosa che conta sono i soldoni, poiché si può dire tutta la parte conclusiva, tutta la parte, diciamo, l'ultimo quarto d'ora all'interno del negozio e del nostro è veramente da storia, girata benissimo, tenuta su all'astra grande, con delle inquadrature fantastici e dei movimenti di macchina pericolosamente da capolavoro, veramente. È un film che mancava veramente due pizzichi per essere un film memorabile, così se si può dire è solo un gran film, uno di quei film che non possono essere persi, che tutti dovreste guardare, peccato che siano tutti su Netflix e non ce l'avete su un cazzi. Quindi che dirvi di più, per me è un film che se l'avete perso lo dovete recuperare perché è assolutamente un noir di quelli che lasciano a bocca aperta, con dei protagonisti fantastici e con un Adam Sandler, mai così bravo, grandissimi fratelli safety che sono al solito veramente una garanzia di scrittura e di regia. Il link di Diamanti Grezzi qui non c'è perché Netflix non ce lo mette, vediamo se c'è quello, diciamo, in cosotto dietro in inglese, qui sotto c'è il puzzante per donare direttamente su YouTube, qui sotto c'è anche il link per andare su Patreon e avere la vostra mia recensione, seguitemi su Facebook e su Instagram per sapere che cazzo faccia a Giro per l'Italia. Ripeto, questo film dei fratelli safety dimostra tutta la loro forza, a tutta la loro forza nel descrivere il mondo, la città coincitata nel descrivere il casino e anche nel descrivere grandissimi personaggi che sono veramente strutturati alla stragrande, perfetto quello di Adam Sandler che qui, ripeto, dà prova di essere un grandissimo attore.